Al mio segnale! Gruppo di bombardieri TIE perduto! Procedgete! Ne resta solo una! Non hanno scappo! Forza blocchi eliminate! Appunte le navi! Attaccare la porta a livelle! Spine ribelli proteggono l'incrociatore! Distruggetele e potremo iniziare l'attacca! Fuoco! Chiunque! E' un'epoca! E' un'epoca! E' un'epoca! L'amico abbassuto. Distruggete le mine e potremo iniziare il nostro assalto. È arrivata una squadriglia di bombardieri TIE. Proteggeteli mentre attacca. Ho una reputazione da difendere e crediti da guadagnare. Ottimo. I nostri bombardieri TIE hanno completato l'attacco. E' fatta. Mira distrutta. Colpitele più duramente. Molto efficiente. Non hanno scappato. Vengono verso di noi. Vengono verso di noi. Rettano 2.000! Copritemi! Bersaglio distrutto! Ne resta solo una! Ottimo! Area libera! Diamo inizio all'assalto vero troppo! Stanno distruggendo i nostri bombardieri TIE! Dobbiamo difendermi! Sembra essere esploso! Concentrare il fuoco sulle difese dell'incrociatore! Abbiamo bombardieri TIE di rinforzo! Supportate il loro attacco! I nostri bombardieri TIE hanno completato l'attacco! Hai pensato di metterti in proprio? Sì, guardate! Si sta arrivando quei sensori che poniremo le sue difese! Ancora viva! Ancora viva! Andiamo lì di mezzo! Andiamo lì di mezzo! Proteggili! Spostite quei sensori per danneggiare le difese dell'incrociatore! Uccisione confermata. I riveti il punto di nostri bombardieri TIE! Intercettatevi! Ah, per poco! Perfetto! Sette i sensori nello scafo inferiore! Le loro difese cederanno! Davide, non ce ne esiste! Sono in movimento! Non ci batterete tanto facilmente! Perfetto! lio! Intensare adesso? Cessna sì! Onuncrate!